a voglio fare un piccolo saluto, prego. Buonasera a tutti, io farò un breve saluto, un bel venuto a tutti i oratori che siamo ziosi da ascoltare, un grazie a tutti i ragazzi e tutti coloro che hanno voluto organizzare questa iniziativa, una delle tante iniziative che in questi mesi sono state organizzate per sensibilizzare su un tema che non sarà forse mai abbastanza discusso, che la nostra salute, la salute del nostro ambiente e quindi la salute di tutti i cittadini di questo territorio. Tutti noi siamo a conoscenza della situazione ambientale dedicata che il nostro territorio vive e quindi è importante innanzitutto che ne rendiamo piena coscienza, che la approfondiamo, mi fa piacere che questa sera abbiamo delle ottime professionalità dei più vari campi che sicuramente potranno nominarci ancora di più sulle problematiche che viviamo e che affrontiamo ogni giorno e affrontiamo come cittadini perché ne viviamo sulla nostra pelle e sulla nostra salute, le affrontiamo noi come amministrazione perché stiamo cercando di portare avanti delle batterie importanti per la tutela dello suo ambiente, sicuramente la principale riguarda il Tecnoparco, le prescrizioni relative al rinnovo dell'AIA, le attività di controllo che cerchiamo di svolgere quotidianamente, alcune altre attività che abbiamo portato avanti in tema di rinnovo e concessioni nel nostro territorio, l'ultima ci vede impegnati e mi piacere che ci sia anche l'associazione Noscoria questa sera con la quale poco fa abbiamo avuto un'interlocuzione, ecco è importante che ci sia questo legame tra i cittadini e l'amministrazione in questi tempi, la battaglia che combattiamo è una battaglia uguale, unica, siamo tutti dalla stessa parte e sono battaglie, sarà un po' banale dirlo però in realtà è così, sono battaglie che non hanno colore politico, che non hanno collocazione, quindi noi siamo ben felici di poter acquisire input da tutti e soprattutto vogliamo e chiediamo il supporto di tutti nel combattere queste battaglie, vi ripeto sono battaglie comuni, quindi facciamole insieme al di là di ogni divisione, la divisione è una condanna per qualunque territorio, quindi se siamo uniti, se siamo coscienti delle battaglie che combattiamo, allora le potremmo combattere con ancora più forza, quindi io vi ringrazio e colgo questa serata con un'occasione anche per noi di prezioso approfondimento, passo la parola ai relatori e voglio esprimere anche la mia gratitudine a tutti coloro che sono qua questa sera, spesso facciamo questa riflessione, è difficile coinvolgere tanta gente, però quando l'argomento è così importante allora, anche questo è un segnale molto forte del fatto che stiamo prendendo una forte coscienza di quelli che sono i problemi del nostro territorio, è il primo passo per affrontarli e per risolverli, quindi combattiamo questa battaglia e facciamola insieme, grazie Buonasera, non credo mai nella eccessiva pubblica dei convegni o di questi conti pubblici perché so che l'attenzione è abbastanza limitata, per cui cercheremo di essere veloci, esauroscrivi e dire perché siamo qui e dove vogliamo arrivare, può apparire curioso il sindaco giustamente ha detto... Quanto abbiamo? Voglio andare a prendere delle buffette un attimo Scusate, stiamo collegando tutto il mondo, come ai tempi di Marconi, è l'Elettra e si dovrebbe chiedere, perché siamo qui, più che altro perché delle persone si paracambiano nel nostro caso da Varese per venire a parlare di problematiche che sono sicuramente di tipo generale ma che riguardano soprattutto questa popolazione antipistici e l'ingipide deve essere per forza personale, io frequento la Basilicata da 25 anni, ho avuto il torto di innamorarmi di questa regione 25 anni fa, forse grande pregio, grande errore, questo non ho ancora capito, in 25 anni ho cercato di fare qualcosa e non ci sono mai riuscito, devo dire che avevo ormai perso la speranza e come quegli amori non corrisposti in cui a un certo punto si dice non si va più avanti e basta, ci si mette ancora in pace e poi si è aperta questa opportunità e ho ritenuto ancora di crederci, grazie a delle persone che con me hanno voluto partecipare a questa iniziativa. Ovviamente noi siamo il meno di questa iniziativa, nel caso nostro facciamo gli avvocati, sono gli dottori, possiamo dire delle cose che forse già voi conoscete e conoscete meglio di noi, forse di nuovo di questo che stiamo facendo questa sera, anzitutto come lo sindaco che la popolazione civile ci crede, io ho 15 anni di Basilicata, nel corso di base iniziativa non sono mai riuscito poi a fare qualcosa di accettabile, è la prima volta che vedo tante persone, questo vuol dire che forse si arriverà a un punto, ma soprattutto abbiamo trovato dei compagni di diagro di altissimo livello scientifico che vogliono partecipare con noi a questo che stiamo facendo, perché questa sera non discutiamo, stasera non discutiamo solo di problematiche scientifiche ma cerchiamo anche di far un passo avanti e di essere progettuali e devo dire che ciò che è stato protoromico a questo libro è stato di esterna soddisfazione come per tutti noi, soprattutto per me, mi ha avuto il piacere prima di vedere voi di avere molti dei medici di questo paese e poi il risultato di questo incontro ce lo dirà il dottore, scritto dopo, e devo dire che è stato del tutto sorprendente per chi come me ormai negli anni è diventato pessimista, ha messo un pessimista a tutti i locali per quanto che vanno soltanto, e quindi l'aver visto quanto è accaduto prima mi è sembrato una sorta di miracolo, siamo in una casa di Dio, e voglio dire che questo è il mio figlio, godarsi che miracoli in questi casi accadono, il genius lo ci aiuti sicuramente, quindi questa sera vi proporremo una serie di riflessioni a dire da dei cattedratici, dal professor Giordano che ci ascolta, che è uno dei massimi esperti mondiali, insomma col profilo scientifico che hanno accettato di venire con noi e non solo di parlare questa sera ma di accompagnarci per mano in quello che noi vorremmo fare e che viveremo la fine, quindi questi sono campagni di viaggio che con spiritore tutto liberale e gratuito, anzi a proprio spese, hanno deciso di accompagnarci e prenderci per mano nella battaglia che noi vorremmo fare. Sintimatico anche che è collegato, parlerà tra un attimo, anche un gruppo di persone che la battaglia che noi vorremmo combattere la sta combattendo da dieci anni, quindici anni ce lo diranno loro ad Augusta. Parliamo di problematiche che sono molto similari alle vostre, probabilmente Augusta è ancora più inquinato nel luogo più inquinato al mondo, sicuramente perché lì non hanno solo il problema di anni, ma il problema di altri dieci e tutte le raffinerie che ci sono che hanno preso Augusta, il vostro è tutto invivibile quanto alla qualità della vita. E sta interessante sentire la loro esperienza perché è un'esperienza parallela gemella, da una parte per il rapporto che c'è tra noi che siamo qua seduti e le persone che stanno ad Augusta, e dall'altra perché anche lì c'è un sacerdote battagliero come è il nostro don Michele, c'è un palmiro che è un omologo che poi ci parlerà della sua esperienza e vedrete quante cose comuni avremo con loro e quante cose dovremo condividere. Quindi io spero che all'esito di quello che diremo questa sera naschi in tutti voi la voglia di combattere. perché esiste un momento nella vita in cui bisogna avere la coscienza civile di fare qualcosa e lo dovete fare prima di voi prima di noi. C'è il professore da Filadelfia, quello da Oxford, che sono il signore dell'Avultà. Abbiamo tutto il mondo, prima c'era un illustrissimo cattedratico di Roma che abbiamo riconosciuto di non disturbare nuovamente perché abbiamo fatto una lunga prolusione, però se non nasce da voi il termine di quello che vogliamo fare tutto quello che decideremo stasera non serve niente e abbiamo perso tutti nel tempo. Quindi spero che le riflessioni che faremo aiutino voi a intraprendere questo cammino e personalmente aiutino me a vincere questi 25 anni di Basilicata, questo male che mi sono sempre portato dietro. Io spero come San Paolo di dire alla fine di questa vicenda che ho combattuto la mia buona battaglia, buon giardano, giardano, giusto padre, fidem servabi, ecco, spero alla fine di tutta questa battaglia di poter portare la mia barca in porto e chiudere questo demone della Lucania che mi ha vinto e mi ha in qualche maniera condizionato nei miei 25 anni di città. Abbiamo detto niente chiacchiere e quindi io partirei, se voglio, da Don Michele perché dal quadrone di casa si parte e poi da Don Michele passeremo al suo collega che ci dirà che un altro battagliero come lei qua abbiamo come veri sacerdoti in confini che lo spiegano qualcosa dopo il mistero come lei. Buonasera a tutti, io ho soltanto un saluto e in questo momento non posso che esprimere la mia gratitudine tanto a tutti e soprattutto a coloro che in questa direzione hanno molto lavorato. Io questa sera sono particolarmente contento per un motivo perché nel passato alcune battaglie, noi abbiamo cominciato vent'anni fa e abbiamo cominciato con le grandi battaglie, voi ricorderete sicuramente la storia della centrale e quindi abbiamo cominciato con un ruolo quasi di chiesa protagonista di preti quasi in prima linea. Adesso con mia grande gioia sto cominciando a constatare invece qualcosa di diverso, una presa di coscienza che si è praticata sempre più forte in tanti, in tanti giovani è cresciuta con loro, in tanti adulti per cui è germogliata nel cuore di tanti e ha posto in essere adulti e giovani ha posto in essere un forte interesse ecco e anche un forte impegno in questa direzione. I problemi del nostro territorio noi li conosciamo soltanto in parte, non siamo resi completamente partecipi di tutto perché non abbiamo anche noi cittadini comuni neppure le capacità ecco di poter valutare completamente e totalmente tutto però siamo uomini di ricerca, siamo pionieri, siamo uomini che in un certo senso hanno fatto proprio una parola che è quella del Vangelo la verità vi farà liberi. Noi vogliamo conoscere, noi vogliamo sapere, noi vogliamo capire, noi non ci sappiamo dare delle risposte a tante difficoltà, a tante sofferenze noi abbiamo tanti interrogativi che albergano nel cuore di tanti di noi e abbiamo anche delle indicazioni che abbiamo ricevuto in questa direttiva anche dal mondo scientifico credo che sia forse anche un po' fuori posto però nella consapevolezza ecco di andare forse un po' oltre parlando del personale ecco voglio, 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 voglio farlo lo stesso io parlo a 25 anni fa quando ricoperata all'ospedale di San Giovanni Rotondo e seguita dalla ricercatrice Accadia mia madre moriva per tumore e la dottoressa ecco, in quel contesto che era una ricercatrice mi disse delle parole molto chiare padre non metta a tacere la sua coscienza e non metta a tacere la sua coscienza e ecco, svegli quella dei suoi concittadini perché qui in questo ospedale da quella valle viene più gente di quanta riviere da tutta la Basilicata noi abbiamo ho citato qualcosa di personale ecco, forse anche fu il vostro ecco ma noi abbiamo ecco delle dei dati nelle nostre famiglie e un po' ovunque laddove abbiamo la consapevolezza il mondo scientifico a posto degli interrogativi e questi interrogativi attentano delle risposte le risposte non siamo in grado di fornirle da noi e quindi attingiamo al mondo della cultura della scienza quella cultura e quella scienza libera non dirigente non asservita ma quella scienza e quella cultura che ecco pongono a disposizione tutto ciò che è utile perché la nostra conoscenza sia piena è perché possiamo capire e perché possiamo anche decidere del nostro territorio c'è stata sempre il Silvago all'inizio ci ha incoraggiati e ci ha anche indirizzato una parola molto molto significativa che non siamo gli uni contro gli altri e questo è un interesse ed è un bene di tutto il territorio ci ha esortati ad andare oltre i colori politici ci ha esortati e ha denunciato come danno per la nostra comunità la divisione e queste parole ecco che partono dal nostro tipo cittadino sono parole che devono incoraggiare coloro che magari hanno deciso di asservirsi ad alcuni a danno del bene economico io mi fermo ecco con questo mio intervento e incoraggio sempre tutta la comunità ecco a prendere coscienza perché qui è in gioco la nostra storia è in gioco non solo la nostra salute ma anche l'essere l'economia e tutto ciò che riguarda non tanto noi che ormai stiamo per finire il nostro percorso storico ma soprattutto i ragazzi e i giovani che si affacciano e che nascono in questa nostra terra e allora io non mi fermo questa volta non c'è stato molto bisogno di sollecitare anzi devo dire che per alcuni aspetti sono stato anche un po' frenante frenante perché perché si potessero insomma fare sempre le scelte ancora sempre un po' più più oculate e mai sempre più di cervello ecco e meno di pancia come si suol dire però ecco non mi fermerò mai di incoraggiare la comunità e di incoraggiare i ragazzi e i giovani ecco in questo percorso di conoscenza e anche di azione intelligente perché insomma credo che il tempo delle barricate insomma è stato necessario in alcuni momenti forse non è necessario in questo adesso abbiamo bisogno di altro per andare avanti però la comunità cittadina ma io mi impegno per quella ecclesiale deve essere presente abbiamo il dovere abbiamo il dovere la vita e l'ambiente e la terra sono doni di Dio e noi abbiamo il dovere di custodirli di difenderli da ogni profanazione e questo è un po' il nostro input il nostro impegno ecco vi ringrazio e auguro un buon lavoro a tutto ecco e questa penso non penso questa è soltanto una parte del nostro percorso ecco che conoscerà ecco altri momenti di studio e di lavoro grazie e buon proseguimento passerei per continuità quindi la parola a Don Palmino Presutto da Augusta prego che non è molto numerosa però è un po' tra l'altro un po' tra l'altro ci siamo naturalizzati anche se la parola si avete due computer vicini per una volta ok 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 adesso ti vi 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 quindi anche perché non abbiamo potuto sentire bene quello che è stato detto prima di noi forse sarebbe l'opportunità di rispondere alle vostre domande si può raccontarci quello che avete fatto fino ad oggi ad augusta anche con la collaborazione dell'avvocato a me e magari i problemi che vi siete trovate ad affrontare piuttosto che il vostro impegno e la battaglia nei confronti anche delle istituzioni per me che si è fatto delle persone che sono fatte con senatore personalmente sono oltre trent'anni che mi occupo di questo problema e poi come dicevo mi ha preceduto il problema che lo dà è il problema con lo schema morale anche me si è fatta questa risposta riscatele saranno fatti con i sociali che si sono fatti spirituali e io credo che il giunamento dell'ambiente della classistica del quinto comandamento vuol dire che è una causa di morte così come la guerra, l'ebrezza, l'armonia eccetera quindi abbiamo fatto tutto il diritto e soprattutto il dovere di vabbare e anche iniziale. Quanto facciamo in questo argomento dobbiamo dire che queste cose le proviamo sulla nostra pelle io potrei parlare a livello personale, dire tra i patrottini che ci siamo una, una, tre, uno, sottotte si saltate il collegamento? no, no, no non è saltato, ecco, sì la sentiamo benissimo adesso ok, faceva il ritorno di audio io non vedo il ritorno video noi la ascoltiamo però volentieri, la riusciamo anche a vedere prego allora proseguo dicevo nella mia famiglia quello che è l'inquinamento l'abbiamo sperimentato in maniera molto pesante ci siamo tre figli che sono malati di l'angolo io ancora non ce l'ho ma non sono da molto a sapere che io sono foccato da questa malattia abbiamo avuto due bambini nati con delle malformazioni due bambini che non sono sopra che assurdi i moreni coccati da queste malattie all'obusta sostanzialmente non esiste una casa che non abbia un malato o un uomo ma sono molto molte le famiglie che hanno molti di più purtroppo questo è quello che stiamo pagando a distanza di tanti anni di inquinamento però dobbiamo lottare contro quella di una cultura che purtroppo mai si è diffusa anche i ragazzi bibliologi ragionano in questa maniera meglio modificandolo che rifame perché purtroppo c'è stata una astuzia diabolica uso questo termine con tutto il significato le persone che hanno gestito il lavoro in questo territorio cercando di non creare altre alternative per cui la gente si deve accontentare di questo perché non hanno altre prospettive e poi anche la nuova generazione purtroppo sono spiegato da questo ricordo compazionale non è facile smandellare questo genere di cultura in una società che ormai da oltre da queste 70 anni ragione in questa maniera a livello personale ho voluto creare negli ultimi 4 anni un tentativo di un nuovo coscienza dato qualche risultato ma ancora siamo per lontani da quelli che sono i risultati che non vorremmo contenere quattro anni fa ho iniziato a fare un incestimento dei morti di cancro per la mia città oggi ne abbiamo centri di circa un migliore facciano semplicemente la punta dell'Aisberg perché se è vero che io non in casa c'è un malato con morto di cancro dobbiamo moltiplicare i 1000 almeno del 9000 perché Augusta conta 36.000 abitanti facendo il calcolo ogni famiglia composta da 4 persone se c'era almeno uno che è stato colpito da questa patologia sente? si si vorrei un riscontro si si sentiamo se poi non guardare il telefono così possiamo anche vederla così perfetto grazie prego allora il collegamento dicevo che calcolando in media 4 persone per ogni famiglia se nella mia famiglia c'è almeno un lato di cancro allora abbiamo circa 9000 provate vittime ne abbiamo sentito come ho detto soltanto un migliore ma non è soltanto il problema del cancro qui a Augusta perché ci sono tante climatologie che sono correlate sicuramente all'inquinamento ovviamente non tutte queste vittime sono dovute all'inquinamento ma certamente l'inquinamento fa la sua parte preponderante per esempio parliamo degli aborti a partire dall'anno 1984 il numero degli aborti si è incredibilmente moltiplicato praticamente una gravedanza su due è stata interrotta e questo è sicuramente un dato molto molto pesante io sento i racconti di persone che si vengono a compitare con me posso raccontare così dei brevi aneddoti che possono partire dalla situazione l'altro giorno nella centralissima piazza Duomo di Augusta ho visto un mio amico nonno con un bambino ho cercato di parlare con questo bambino ma il nonno mi ha detto padre è inutile che parla perché il bambino non corrisponde il bambino è nato autistico ogni mese lo portiamo per 30 giorni a mesi a termi in un centro specializzato difficilità ma mi diceva questo amico che nel centro dove vengono trattati questi bambini il 90% dei bambini che hanno preparato vengono andati a fronte con questa e questo è quello che mi fa pensare il segno dove il numero dei portatori di etica è estremamente elevato e quindi questo ci fa capire molto bene in quale condizione viviamo che sono molte stalle di stazionamento riservati ai disabili anche lì altro grosso problema una delle cose che mi ha sorpreso è venuta da una operatrice che lavora nel lancio sanitario e mi ha fatto questa confidenza parla lì giustamente denuncia queste morte del tumore ma guardi che qui ci sono anche altre malattie sicuramente controllate dell'aliminamento che mi diceva di una persona di famiglia che aveva delle turbe mentali io mi dicevo questa persona lavorando del mondo sanitario e lavorando anche con un marito che ha un stipendio elevato ci siamo potuti permettere di poter curare questa nostra persona ma quando ho cominciato a girare i vari centri speciali hanno trovato tante tette del nostro territorio e facendo alcun calcolo delle esenzioni per patologia mi diceva lei non ha idea di quanti malattie di mente abbiamo nelle città di Ust se io lo rilevo lei non mi crederà ho chiesto e quanti sarebbero semplicemente in base alla esenzione per patologia di azote di mille ma vengono tenute nascoste come se fosse un motivo di cui vergognarsi io credo che se dovrebbero vergognare quelli che hanno creato questa situazione non le vittime purtroppo allora io ho avuto modo di parlare con la commissione del senato ambiente e sanità ho rivelato questo dato due anni fa l'ho segnalato proprio perché mi sembrava visto il doveroso parco non ho avuto particolari riscontri però il parco è stato segnalato e credo che dal punto di vista istituzionale uno Stato che ha nella Costituzione la difesa del diritto alla salute dovrebbe certamente interessarsi purtroppo abbiamo visto una cosa sconcertante noi eravamo uno dei migliori ospedali della provincia di Serabusa Augusto 3 dove il tuo luogo è il centro più importante avevamo addirittura fino a poco tempo qua tre ospedali poi ne è rimasto meno della metà di uno uno è stato chiuso era l'ospedale militare la stessa di più di ultro ha portato anche le scolgere le vittime industrie un centro di riabilitazione di trovare la motologia si è trasferito da poco in una struttura diversa da quella di Augusto e dove abbiamo pensato a questo la cosa che ci ha fatto veramente preoccupare è il rimaneggiamento dell'ospedale di Augusta un ospedale che si trova a rischio quando si parla di rischio all'Ocusta non dobbiamo pensare semplicemente alla presenza del volo dell'orchidio dobbiamo pensare anche alla base militare una della marina italiana e l'altra dell'attività della Nato recentemente come anche dell'esercitazione contatto dei soffertiti nucleari che di rischi sono tanti il rischio militare il rischio chimico ma c'è anche il rischio sismico che siamo una regione più sismica dell'Europa anche se questa è una cosa che tanti non vogliono ammettere proprio perché è assurdo che una zona sismica del volo potesse sorgere un ruolo dell'orchidio di quelle dimensioni sono circa 20 grondi quindi ha rotto le coste che sono stati colonizzati dai signori del petrolio se poi parliamo anche di quello che è stato il danno all'ambiente e qui abbiamo tutti i tipi di danno possibile immaginati l'invenimento dell'agna è quello tutto sommato deve forse meno evidente perché non si vede ma si sente con le varici ma ci sono le tante discariche ci sono c'è una discarica sommessa dentro il porto di Ousca e anche fuori del porto tanto per vedere anche delle cifre che possono dare capire qual è la situazione il ministero dell'ambiente tempo fa ha fatto i tarotaggi al interno della casa di Ousca hanno calcolato la presenza di 18 milioni di metri uberi mani tossici ma mi diceva un giornalista che nel passato ha lavorato con una delle imprese che lavoravano nella zona quando negli anni 70 c'è fu la guerra delle figure per le giuse al cavale di Suez e vengono dragate il porto di Ousca per raccogliere le sue per le propiere perché non avevano una notaria in giro per l'artica quindi diceva abbiamo dragato i portali per portarli a 22 metri e tutto quello che abbiamo preso dal porto l'abbiamo portato fuori del porto è stato magnificato approssimativamente questo questi fanghi dovrebbero essere tra i 65 milioni 45 milioni di metri uberi vorrei dire se noi riuscissimo a prendere il problema delle politiche tutti questi fanghi che stanno sui fondali del porto di Ousca e fuori potremmo dare ad ogni abitante dell'Italia indipendentemente se viva in Guarda Ousca o in Sicilia almeno una tonnellata a destra quindi magari quando si va a fare il riportamento di benzina al distributore non si sa quanto costa in termini di danni alla salute danni alla vita alla dignità della persona il litro di benzina che si mette nella propria auto io mi ricordo nel 2005 quando invitai il presidente Cianchi per vedere l'Ousca perché il territorio di Seracusa era stato dichiarato patrimonio dell'umanità io disse che il territorio di Ousca invece potrebbe essere dichiarato patrimiera dell'umanità ovviamente il presidente venne a Seracusa non venne a Ousca perché nell'anno lì si debbano vedere soltanto le cose belle disse il presidente che i rifiuti debbano essere smart-tele dove vengono prodotti diciamo anche un'altra cosa che la zona di Ousca che produce più della metà della benzina che si consuma in Italia per produrre questa benzina produce anche una enorme quantità di rifiuti allora noi non possiamo incertare la logica che possiamo dare la benzina a tutti e tenerci i rifiuti chi va a comprare la benzina dovrebbe anche fare questo ragionamento se io compro il rifiuto di benzina dovrei anche smartire quella quantità di rifiuti che è stata diciamo prodotta per fare questo rifiuto di benzina noi praticamente abbiamo la parte più servibile della produzione quella più schifosa quella più tannosa mentre le altre si cuotano i frutti puliti non vogliamo fare volendo la mano purtroppo le tante malattie le morti per il cancro che abbiamo ci fanno capire che questa è una zona che è stata sacrificata a sport di daesco ricordo che l'anno scorso una notte memorabile era il 14 dicembre abbiamo fatto un blitz a Catania dove stavano portando il porterino dell'inva poi veniva trasportato di notte in una discarica della zona Augusto Apriolo dell'inva di questo tra non si sapeva nulla noi l'abbiamo saputo per caso abbiamo bloccato uno dei camion e abbiamo visto anche il modo come lo trasportavano e domani mattina quando le foto delle mie mani con il porterino hanno fatto il giro dei giornali finalmente il ministero si è mosso questo trappico è stato bloccato diversamente durante la morte ci sarebbe stato questo di evaio di camion che senza essere visti dalla popolazione che si avrebbe scaricato se migliaia migliaia di tonnellate in questo polterino il ministro diceva che non era pericoloso ma io chiedo ma se non era pericoloso perché dovevo cercare uno di scarico così lontano dal punto di produzione ecco sono cose che mi hanno fatto sempre pensare quando ho cominciato a coscientizzare la gente mi riferisco in modo particolare ai miei ragazzi a scuola ma anche alle persone che vengono in parrocchia che prima lo buscano l'ho fatto con una idea che sicuramente ha fatto molto il petto ho cominciato a fare il sentimento dei morti del cancro che avevo del cancro per la famosa lista di oltre mille nomi che abbiamo che è stata acquisita anche dalla magistratura ha aperto una breccia in questo muro di omertà che lavava sull'addome purtroppo diciamo questi morti sono stati per tanto tempo dimenticati questa lista li ha fatte venire alla luce esattamente come è successo per le poi guarda dire tutte quelle vittime dimenticate nel tempo alla fine hanno avuto anche un nome e ognuno di questi nomi era una persona che aveva la sua storia e quindi l'abbiamo riportato alla luce ciò nonostante nonostante abbiamo pressato l'istituzione per volersi interessare per caso Augusta abbiamo avuto sempre una sorta di spettante silenzio e questo dal punto di vista morale non lo possiamo accettare ovviamente la gente che si è giocata delle carte occupazionali non è che si può unire in forza a noi ma noi potremmo fare questa lotta anche per quelli che o non ci credono o ci hanno portato anche alle spalle o di voi non è perfettamente inutile perché continuando di questo passo questa controlla la terra che era bellissima e che purtroppo rischia di scomparire per sempre sommessa dai tutti noi chiediamo che le istituzioni se facciano carico della sofferenza di questa popolazione sono almeno 200.000 persone per cui possiamo considerare tantissime intanto già i millenomi sono una strage per le proprie se pensiamo che i morti di Marsimello fuono 156 qui ci sono molti difficili del lavoro che non sono state ancora riconosciute ma su questo faremo anche un'altra battaglia ovviamente io mi fermo perché non credo di poter monopolizzare la discussione e c'è una parola ad altri che possono continuare l'incontro tanto faccio un saluto carissimo a tutti e molto particolare anche al nostro padroco che lì si sta facendo tanto per queste problematiche che sono molto simili alla nostra grazie 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 tutto almeno adesso ci diamo la parola al professor Giordano che è in collegamento da Filadelfia e anche lui ci racconterà la sua esperienza sia presentata grazie c'è una parola la sua esperienza professionale non si sente non c'è l'audio può staccare la cuffia può staccare la cuffia ecco adesso mi sento adesso adesso si allora volevo buonasera a tutti volevo ringraziare il venuto del dottor Biastro che io non ho avuto il piacere di conoscere personalmente ma subito così ci siamo sintonizzati su quello che è l'importanza di questo argomento poi io ho sentito attentamente il rispetto precedente il padre ha detto delle cose eccezionali e realistiche sulla questione della Sicilia però io mi scrivo un po' quello che è storicamente il nostro lavoro lavoro che io ho ripreso dagli steri venti circa 15 anni fa è editato da un libro che pubblicò mio padre circa 40 anni fa che è la prima mappa della necessità in Campania dove immediatamente si vide come un aumento di tumori in determinate zone era legato all'industria del nord perché erano state così costruite in zone splendide della nostra Campania e con il professore di Bologna mio padre è quanti dei pionieri di quella che è la lotta all'amianto le rincese sull'amianto operanti che hanno poi portato alla dimostrazione che anche una sola fila di amianto poteva essere così devastante per la trasformazione di una zona normale in una zona tumorale quindi io mi venivo da prendere a 31 anni 15 anni fa decisi un po' in memoria a quel lavoro che scientificamente mio padre che aveva anche un paese ostacoli dal punto di vista diciamo delle depressioni sia abiti che l'altro ma anche perché mi rendevo conto che esisteva una situazione così di disorganizzazione di onestà totale su cui avevano le patologie che atteggevano la popolazione campagna e con un finanziamento del governo americano che dipartimento della defesa americano che nel frattempo aveva dimostrato che i soldati americani che vivono nelle zone in campagna come Cassero Coturno come Bagnoli sviluppavano una serie di valore di valore di valore di valore di valore quindi di conseguenza gli americani in questa posizione dei finanziamenti il PIO usa immediatamente usare immediatamente l'impresa l'opportunità di poter iniziare questo lavoro ed è di accesso alle schede di commissione ospedaliere apprese a campioni sul muro della mammella e la cosa più interessante è che con le schede di commissione ospedaliere che il mistero ha quindi fondamentalmente come sappiamo che le schede di commissione ospedaliere sono le schede elettroniche che sono l'autodina che hanno più o meno registrato tutte quelle che sono patologie che affingono la popolazione italiana però stranamente io richiedevo dati alle atti richiedevo dati ai rischi di tumori richiedevo dati alle rischi di sicurezza sanitaria e c'è un'influenza assoluta riuscire ad ottenere ma mi sentite però riuscire a ritenere questi dati e a campione prendiamo il tumore della manella tra il 2002 e il 2008 e pubblicando il primo lavoro che dimostrò pensate che in Italia sistemano 40.000 casi di tumori della manella non intercettati e riportati in Italia gli organi ufficiali italiani da che si dice che le afro istituti superiori sanitaria istituti ricerca carattere scientifico cioè i colleghi che vi possa molto chiamare colleghi che divano finanziati che realmente avrebbero dovuto svolgere questo lavoro ma non sono per tante ragioni perché voi sapete che in Italia purtroppo la politica finanzia la cultura e voi sapete quando la cultura non inizia inersi e io parlo non solo di cultura che può essere letteraria umanistica ma la cultura c'era anche quella scientifica e che la scienza deve avere una scientifica indendenza e poi possono esserci delle realtà delle carcette deve dimostrare e deve svolgere in un proprio manovra di ricerca il sviluppo vero e alla fine avere una ritalità per il beneficiale di quello che è il cittadino ma la cosa più interessante era questa che di questi 40.000 tatti un 14 per cento una donna sotto i 40 anni e donne tra 20 25 anni pensate queste le tappe scritte cioè voi sapete che questa una mamma a 45 anni costate in bosta e quella percentuale di tumori non veniva intercettata è chiaro questo è un cavallo di proprie devastante questa informazione pubblicata nelle viste scientifiche però io attuali in un tipo di comunicazione differente iniziali a comunicare e ad educare le popolazioni della terra dei popoli che hanno la morte la campagna il venerente tutto con le zone caserta napoli e poi anche in compagnia in grazie all'aiuto della chiesa determinante quindi degli attivisti e della popolazione riuscimmo finalmente a ridutare e a far capire ai cittadini quello che loro vivono sta proprio a peggio l'avete contato c'è è assurdo che padre scusi padre io non sono riuscito a capire il suo nome don Michele non non palmino don Michele non palmino è assurdo il papino si deve mettere a raccogliere i risultati delle mortalità dei tumori va bene e che non lo facciano e che non lo facciano quei professionisti meriti lautamente finanziati e pagati dalla propria lautamente questo che significa significa che quando io inizio a educare padre padre in particolare di Skywark quindi anche gran parte degli attivisti che erano presenti nella zona ma è esplosso il così grande fenomeno a livello mediatico della terra delle cose e questo che abbiamo fatto poi ho portato la notizia che poi questi politici nostri sono in grado anche di digerire le pietre se vuoi dalla pietre non dà alcune di digerire le pietre bene noi noi come questa pietra avere un impatto maggiore che è presentare anche alla stampa americana quello che è il problema della terra delle cose quindi New York anni ne ha parlato nella parola di ora è che si è creato un movimento un movimento di conoscenza che ha permesso finalmente i cittadini anche quelli che potrebbero avere la terza elementare a comprendere che significava il rifiuto tottico che significava nascondere i rifiuti tottici illegalmente sversalti mischiati con il rifiuto urbano che il rifiuto normale la potezza che chiamiamo normalmente quella non fa male quella delle casse insomma è quella quello che non è che cauda da questo è il rifiuto e ancora la cosa grave qual è che le industrie del nord le industrie del nord andate quindi gli imprenditori andando a un percetto con una cercia politica e con la perché la camota e che succede quando vivono scoperti davano sempre la colpa alla camota ma schiavoni inventiti come ultimamente avete letto all'inchiesta di Panpeggio dicevano ma guardate noi se non avessimo i nostri uomini nei comuni nei vostri uomini nel governo noi saremmo dei semplici figli va bene ma siccome abbiamo capito che la bellezza è oro che il rischio tottico è oro è chiaro che siamo stati diciamo stracciarmati di una cesta politica e di una cesta tuttiva però ha fatto un padre il schiccio è vero? sì 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 ma in questo momento ho fatto un po' in altro ho detto che c'è un sindaco di Stuopri che c'è un sindaco che mi pare che si sia ritellato a quello che è di filo tossico è vero come il domani quando si sia abbia cercato di ritellarsi a quello che era il problema dello spessamento dei filologici ora noi in Campania abbiamo creato un modello di verruccia però per la legge del contrabassio come ha detto anche c'è un problema già aria roberti solo per la conoscenza e per la ribellissima della popolazione che quando la cultura volta a educare e a far conoscere e chi ha culture conosce riesce almeno a dipenderci giusto? riesce a comprendere quello che almeno è bene e male e poi chiaramente può decidere di fare il bene e il male però almeno riesce a prendersi rispondere tutto questo bene per la legge di contrabassio adesso chiunque viene in Campania si trova bocchi si trova chiaramente si trova una popolazione molto più sofisticata molto più sofisticata tanto che adesso il problema delle terre di fuoco io ho scritto un libro insieme al giornalista Paolo Benedetto di scassi è una monenza di stato delle terre di fuoco dell'Italia dei delenini perché come avete sentito da padre Bambino il problema non è solo la bambina è che noi siamo riusciti con questo momento di denuncia tra ricerca indipendente attivismo e la chiesa a penetrare in maniera capillare ed educare la popolazione quella stessa popolazione che adesso chiaramente si riferia non ha permesso che si costruissero gli incineritori non ha permesso che si sversassero determinati di più ma nonostante tutto esiste ancora questo legame in questa certa politica e purtroppo noi ci troviamo adesso anche con quello della classe medica la ricerca scelta di quelli che dovrebbero fare la ricerca scelta noi abbiamo una fondazione di oncologi di un oncologo che ha dominato l'oncologio di l'arena per 40 anni sia una fondazione che è venuta finanziata dai proprietari di quelli che costruiscono gli incineritori alleatto industrie limite ma signori io non riesco a capire che facciamo da un lato noi eliminiamo dall'altro prodotto che facciamo abbiamo studiato della speranza quindi il sud nella propria non voglio dire ignoranza che una brutta parola ma la genuinità va bene genuinità mancanza di conoscenza perché è chiaro non è messa non vengono i studi in tutto questo si trova alla fine anche se fa assicurare è stato il nostro quindi noi prendiamo il fibro di dati da una fondazione che da un'ordine con un'ordine raccoglie i soldi poi li portano a un'ordine il 90% vanno in Normandia il 10% vengono sbrustati e i compotenti ricercatori che dicono grazie a tutti intanto dobbiamo anche ringraziare il professor Giotano perché tra l'altro è appena sbaracato dall'aereo quindi ha fatto una colpita che vi è il 1% di un'ordine un'or di un'ordine che si riuscirà all'anno nel mentre che si ripristiappa la conversione no ecco ok fumiamo troppo e mangiamo male e poi fanno passare le campagne per raccogli dei finanziamenti dicendo che i prodotti nostri, le arance, i pomodori, fanno bene ma sono pure prevengono le patologie allora io dico che noi adesso dobbiamo essere molto più attivi dobbiamo reagire e reagire non significa che dobbiamo uscire con i polponi e attraccare però dobbiamo attraverso la cultura, la conoscenza iniziare a pretendere quello che ci spera e dobbiamo seguire chiaramente a quei politici che sono sempre loro responsabili alla fine i terminali delle stesse che avete visto anche recentemente con i bambini alla fine mi sento il politico che decide è chiaro, il decisione va a posto, decide dove il finanziamento va, come si spende e poi tutto e resto chiaro non accuttiamo nessuno in particolare, no, però il sistema è quello e nonostante i fettori sono accessi continuano in maniera in perspectiva amicinati ecco il momento cosa dobbiamo tenere conto? dobbiamo tenere conto di una cosa ricordate che nei nostri terreni, nella nostra acqua, nella nostra area, nella nostra terre esistono sostanze come amianto, cronodiline, benzodiline, diossina, metatalli pesanti ci sono alcune di queste sostanze mesche a contatto con qualunque voglia di vita la trasformano e io parlo di vita e poi ci avesse lui ma tutti voi che hanno un DNA e non a geneva trasformano la carne e cambiamo anche le proprietà perché le patologie non siano immediatamente manifesti e poi dobbiamo iniziare a credere chiaramente quali sono i diritti perché ormai dobbiamo essere a conoscenza di questo lo sappiamo che il DNA è un problema lo sappiamo che le nostre terre sono stuprate da questi delinquenti e non vi fate ingannare solamente da mafia, camorra, drammica ricordate, lo Stato quando vuole combattere gli strumenti criminali, camorra, maschila e ingrandita ci riesce vabbè? quando vengono toccati loro vabbè? ma non bisogna usare sicuramente le scarità ci sono delle piagate però sono governate e sono finanziate da una certa politica cosa dobbiamo fare? dobbiamo iniziare chiaramente all'ignalità del politico e c'è la grande e altra grande perché le politiche non si fanno una zona di ritardo? e che chi ha sversato con le ragioni e volentieri? perché poi alla fine non si riesce a creare un programma di biomonitoraggio sulla popolazione? è chiaro che noi siamo una popolazione in determinate zone, quelle zone che è suscettibile a sviluppare una serie di patologie quindi quella popolazione deve essere monitorata deve essere monitorata lo Stato deve essere monitorata lo Stato che queste strategie vengono implementate e che finalmente si possa riparare i danni che sono stati 10-60 anni ci vorranno 8-100 anni troviamo a vivere, iniziamo oggi per riuscire a fare più bautare questa situazione io finito qui però penso di essere riuscito in breve tempo mi si piace non essere presente lì ma penso che sia... inizialmente e anche involontariamente anche adesso i nomi industriali sono stati responsabili di tutto questo adesso si trovano anche loro in una situazione di difficoltà quindi i testamenti al fondo hanno un tipo le zone Nombaglina, Nero, Toscana, Sud di Venezia e Giulia sono delle zone altamente adesso a rischio e sono delle zone dove c'è un aumento di patologie e ci sono delle discariche illegali perché quella reazione che abbiamo avuto con noi per la legge del contrapatto sta iniziando a creare delle problematiche anche nelle zone dove è stato, da dove è nato il contrapatto allora saluto a tutti, se ci sono domande comunque voi ci chiedi, potete rilasciare un po' di me grazie professore scusi solo una domanda mi chiedono se ci sono magari delle patologie... poi ci sono quasi male di 중 se ci sono le patologie di sette ha messo delle carcella coffine se ci sono delle patologie di sette se ci sono delle patologie di sette Se ci sono delle patologie specifiche che possono essere connesse ovviamente al territorio Quindi c'è la sensibilità, ci sono delle patologie specifiche che possono essere connesse ovviamente al territorio Ma dopo, si dì, non fate un'esperienza, c'è la domanda che si contende Grazie Se ci sono delle patologie legate al petrolio, chiedono Il problema è il loro posto Se riesce a sentirci, volevamo nuovamente ringraziarla per essere intervenuta e siamo molto contenti che lei faccia parte di questa squadra E adesso daremo la parola al dottor Casarin che è un ginecologo oncologo che attualmente ha preso la propria attività presso il Cancer Center di Oxford Grazie Grazie Prova a chiudere e a rientrare Giuseppe, prova a chiudere e a rientrare Nel frattempo che cerchiamo di cristinare l'audio ci diamo la parola al dottor Ferrara Che penso conosciate molto bene e ci spiegherà un po' come, in quanto vedo, cerchiamo di portare avanti questa battaglia proprio di avvistici sul territorio Grazie Grazie, buonasera a tutti Grazie Il mio coinvolgimento in questa situazione parte da un'osservazione che alcuni anni fa insieme ad altri colleghi di medicina generale che distribuiti sul territorio abbiamo fatto Grazie Noi medici di medicina generale o medici di famiglia siamo gli osservatori di ciò che succede sul territorio, di ciò che succede alla popolazione Ognuno di voi ha il medico di famiglia e quindi ognuno di voi è a contatto periodicamente con questa figura Valutando i dati che periodicamente registriamo sui nostri computer su tutte le malattie che afferiscono ai nostri ambulatori Alcuni anni fa così notai un incremento dei tumori per cui incominciai a chiedermi ma che cosa sta succedendo? Ne va mai con alcuni colleghi, coinvolsi alcuni colleghi a condivirsi con questo dubbio con alcuni colleghi e venne fuori la necessità di indagare, di capire che cosa succedeva, per cui ci mettiamo insieme tutti i dati che avevamo nei nostri computer e venne fuori una cosa un pochino preoccupante Non voglio dire che tutti i dati sarebbe troppo lungo spiegarvi tutto ciò che abbiamo fatto però una cosa venne fuori immediatamente e mi salto subito agli occhi la linea di tendenza della diagnosi di tumore, cioè che i tumori man mano che passavano gli anni aumentavano Questo fatto a me personalmente impressionò perché significava che c'era qualcosa che non andava Non riuscii a spiegare perché è difficile poter capire un tumore da che cosa dipende Naturalmente ci sono molti diciamo indicatori che determinano il tumore a partire dall'età, dalla genomica in pratica a dei fattori esterni che può essere l'inguinamento, che può essere lo stile di vita però la cosa importante è che questi tumori crescevano Incominciamo ad allarmarci e quindi siamo entrati nell'ottica di capire sempre di più Mi è andata la possibilità di partecipare con questo gruppo di avvocati, di ricercatori, di gente molto esperta Il nostro lavoro che facciamo non era scientificamente validato perché è stato un lavoro fatto in famiglia fatto da cuore, tant'è che non abbiamo utilizzato epidemiologi, non abbiamo utilizzato dei dati statistici molto efficaci Per cui diciamo siamo stati, tra virgolette, costretti da questa realtà a partecipare con loro Prima di così molto ci sono stati tutti i medici di Pisticci che ci sono stati hanno dato l'assenso a partecipare a questo studio Difatti noi saremo la parte più importante nel senso come registrazione dei dati Che significa? Significa che il dato, ovvero il numero delle persone affetto da patologie e da tumori è importante e che serve per poi fare la statistica Eh? Sì, mi suggerisco che non solo tumore, ci sono tante altre patologie Malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, malattie da paradigene Però in questo contesto la fa da padrone il tumore perché la parola tumore diciamo, mette un po' di troppo Perchè vogliamo partecipare? Ecco, questo è un dato importante Perchè ognuno di voi ha il suo medico di famiglia E la registrazione, il ritorno sui dati che è molto importante Serve per fare questa assenza Per cui, per esempio, una cosa importante Io vorrei coinvolgere anche voi, voi cittadini Quando andate dai vostri medici Cercate di, non pretendere, ma di ricordare al medico Hai registrato la diagnosi, hai registrato questi esami, hai registrato tutto Perchè, se noi registriamo Loro hanno più elementi per poter capire Quindi capendo che cosa succede È possibile arrivare ad una maggiore consapevolezza Di quello che succede nel nostro territorio Ora, si è parlato di un altro fatto Che aveva detto il professor Giordano Dell'immigrazione sanitaria Di lui si stava dicendo ignoranza Ma io, nel senso di ignorare, non conoscere Però io vorrei sottolineare un dato molto importante Nelle nostre strutture, purtroppo, non ci sono quegli elementi che portano ad una diagnosi Molti fanno i viaggi della speranza Perché? Perché trovano altrove elementi che non troviamo nelle nostre zone Per cui, e questo è un dato molto importante E nei nostri database bisogna inserire Quando una persona va fuori a curarsi Di solito in Puglia, Milano, eccetera Bisogna inserire anche il luogo, l'ospedale dove si cura Ma che può essere un fatto importante Far capire dal punto di vista politico Che le strutture nella nostra regione Possono anche non essere efficienti Perché il cittadino lucano si serve delle altre strutture Quindi anche questo Chiara è il primis Il primo Pitella Chiara è 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 il primo Pitella Una volta avuto bisogno Un po' di più Quindi anche io invito voi Per cercare di sollecitare Da parte nostra Faremo l'impossibile per poter registrare Che è un lavoro molto particolare Ecco, io così ho finito Se ci sono delle domande siamo a disposizione Quanti medici di famiglia sono? Di medici di famiglia? Noi siamo 15 medici di famiglia e due pediatri Quindi se vi mettete insieme già i medici di famiglia di medici Qualche dato applicate fuori Senza dominare le persone Certo In un periodo è il Pisticci Anche se il Pisticci ha 18.000 abitanti Quindi a Praia si non va inarcare Tutti i cittadini di Pisticci hanno il proprio medico di famiglia Quindi l'anagrafica del comune ci dice Quanti è la popolazione distribuite per tutti Quindi l'analisi che fece Di Grani all'epoca sul suo studio L'analisi? Che fece il vecchio sindaco di Grani all'epoca sul Pisticci Che su 150 per decessi c'erano un numero sul Pisticci No, l'analisi che abbiamo fatto noi L'analisi che abbiamo fatto noi E' un'analisi molto più particolareggiata Per cui in questo momento penso che non è il caso di poterla Non è questo il motivo della Comunque è stato fatto un congresso a cosa Un incontro a Marcoria tempo fa E ci sono... L'ho dimostrato tutti i ragazzi Che anche il sindaco era presente Allora non era il sindaco Era presente Si chiedo scusa Fare l'indagine epidemiologica Noi l'abbiamo fatta Però non è validata dal punto di vista scientifico Cioè non è un'indagine dove Ecco l'epidemiologo, l'avvocato può fare la voce crossa Noi abbiamo fatto un'indagine Tra virgolette familiare Nel senso che abbiamo fotografato La situazione di Pisticci Poi non eravamo tutti i medici Eravamo sei medici che hanno portato Che hanno diciamo partecipato volontariamente A questo tipo di istituto Però diciamo Io penso che quello deve essere la base Per un punto di partenza Sì Sì Pisticci per esempio Ecco una cosa Pisticci ha un territorio molto grande D'accordo? E anche con diverse problematiche Quindi faccio un esempio pratico Pisticci Scalo C'ha le sue problematiche Casinello Non ha le problematiche di Pisticci Scalo D'accordo? Quindi c'è questa diversità Allora è importante che Nell'indagine epidemiologica Come indicatori Venga messo per esempio La residenza dove vive Un altro indicatore E oggi Pensionato A 65 anni 67 anni Pensionato Ecco Mi faccio di essere scusata Se entro un po' nel particolare Ma ora è sindiopatico Una persona Di 70 anni L'altro giorno E' venuta da me Abbiamo fatto una radiografia E aveva un tumore al polmone Va bene? Allora Questo qua Va analizzato che cosa? Va analizzato Che cosa ha fatto in passato? Perché se Adesso è pensionato Se in passato Ha lavorato con l'amianto Ha lavorato in zona E dove ha lavorato? Perché se ha lavorato a Pisticci Scalo Oppure ha lavorato alla Verro Sud Dove utilizzavano l'amianto Il discorso cambia Bisogna vedere per esempio Se in famiglia Ci sono persone Che hanno avuto dei tumori Quindi bisogna calcolare Anche la genomica Gemi dei tumori Si con le mani Aspetto poi Come in un'unità Lo stea La Raffaevacchino Più le sensazioni di finger Stai già avanti Se non c'è Si si prego Eh si ok Il problema E' che per fare un tipo di Di lavoro come Dobbiamo impostare qui a Pisticci No Sfiegelo Bisogna fare E' un'impresa difficile Lo dico chiaro e tondo Perché I dati che abbiamo adesso I dati ospedalieri Non ci servono a niente Assolutamente a niente I dati che dobbiamo avere Dovano essere dati Abbastanza validi Nel complesso della popolazione Cioè infatti Il lavoro che abbiamo Il rincontro che abbiamo avuto In due ore fa Allora fa con i medici di base Era perché Ho spiegato anche a lui Che non devono essere Cinque medici di base su sedici O sette su sedici Ma devono essere Tutti i medici di base E quindi Stimola la popolazione A spingere I medici di base A fare questo lavoro Perché se noi riusciamo a riavere Dei dati validi Validi Noi possiamo fare Un lavoro Come ha detto giustamente Di causa effetto Perché se no Non riusciamo a fare Cioè il lavoro Che bisogna fare In questo momento È un lavoro da capo Cioè nel senso Partire solo da giustici Non in base di calcio Basta partire da qui E cominciare a fare Prima di tutto Quali sono gli agenti inquinanti Quindi rifare Una valutazione psicologica Una valutazione generale Dopodiché Mentre loro fanno Questo lavoro Che è un lavoro Difficile Sicuramente difficile Perché bisogna valutare Il lavoro La posizione Dove ha E tutto il resto A quel punto I dati Verranno presi Convogliati Non più qui Ma verranno convogliati A Roma All'università A Roma Che abbiamo noi contatti Perché io lavoro Per Pavia Ma abbiamo contatti Anche con l'università Di Roma Perché ho appena parlato Con loro Il professor Messineo Che è uno dei massimi Specialisti in igiene Anche io Specialisti in igiene In medicina Comunque lui è un professore E cerchiamo in questo modo Di trovare Questo anesso Perché se no Con quello che è stato fatto Finora Qui Mi dispiace Forse qualcuno si offenderà Non so se c'è qualcuno Che ha partecipato A questa valutazione A questa raccolta dati Finora Qui è stato fatto Nulla Di effettivamente Valido Dal punto di vista scientifico Poi se qualcuno si appena Non ci sono problemi E il problema Qui bisogna partire da capo Bisogna fare il lavoro da capo Però se non c'è la popolazione Che partecipa attivamente Ma attivamente E invece di base Noi non possiamo fare Assolutamente niente Perché in qualsiasi Inchiesta In qualsiasi impostazione Se c'è una piccola palla Come dico io In qualsiasi Nei nostri dati È sicuramente archiviata Sicurissimamente archiviata Ok? Quindi quello che chiedo È questo aiuto di tutti Questa è con l'operazione Io Prima ho parlato Della vostra collaborazione Che è molto importante Forse ecco Non so se riesco A darvi questo messaggio Se voi Non dico pretendente Ma sollecitate Un collega medico A registrare i dati Sono molti Perché su quelli Non si lavorano Non solo sui dati Vi faccio un esempio Non solo sui dati C'è già in essere Non sui dati Cioè Cioè Vi dico che cosa serve Non serve Non l'analisi così Annalisi così Cioè Non entriamo Non entriamo Non entriamo Sulle nostre difficoltà Burocratiche Che non c'entrano Io ho i dati Da registrare Come possiamo partecipare Allora Vi faccio un esempio Per esempio Una persona Avviene A problemi Se riesco io Ad arrivare alla diagnosi Altrimenti Si va a registrare Vi faccio Pronghi Croniche Ostruttive E c'è Nel computer esce Una data E quella data È importante Perché Quella data Fa fede In base alla diagnosi Quindi la seguiamo Nel tempo Perché la medicina Generale segue Le persone Le malattie Viva È chiaro Per cui Fra due o tre anni Se su quella diagnosi Si va a instaurare Un tumore Si sa che Il tumore Si è instaurato Su quella diagnosi D'accordo? Se poi Nel quadratino Della professione Si mette Che è il muratore Faccio per dire Oppure ha lavorato Pistici Scano Allora Si metterà In correlazione La malattia La broncopolmonite La PPCO La broncopolmonite cronica Ostruttiva Con il fatto Che era Muratone E quindi Questo è importante Non so se C'è l'analisi La cricemia L'emocromo Non hanno Se può servire Per il diabete Ma non per Non entriamo Nella burocrazia Che ci perdiamo Quando saltiamo con certezza Vorrei Scusa Un ultimo passaggio Un ultimo passaggio Questo che vi ho detto prima Perché è importante Allora In Basilicata Esiste Il registro Tumore Il registro Tumore Di Basilicata Regionale D'accordo? Che è stato validato Va bene? Ora Il registro tumore Di Basilicata Ha pubblicato Ultimamente I dati Riferiti A 2014 Cioè Di 4 anni fa Perché questo qua? Perché il registro Perché il registro Del tumore Prende i dati Dalle cartelle Cliniche Dagli esami Fatti In altre regioni Dalli codici Di esenzione Lo 048 E dalle Diciamo Dalle spieghe In stat Di morte D'accordo? Ora Tutti questi dati Arrivano con 4 anni di ritardo Il nostro lavoro Il nostro lavoro Il nostro lavoro Invece Possiamo avere Il giorno in cui C'è la diagnosi Cioè Se Io Come ho fatto La diagnosi Come ha fatto La diagnosi L'obriomologo Di tumore Colmonare Che è stata fatta 7 giorni fa Quel paziente Entra nella statistica Quindi noi Possiamo avere Dati statistici Aggiornatissimi E' chiaro? Ecco perché Importante La vostra collaborazione Chiedo scusa Posso Se vuole Ritare il microfono Sì Volevo intervenire Perché comunque Noi rappresentiamo L'amministrazione In termogrammo Con l'amministrazione Quindi Quello che Volevo dire Quello che sta succedendo In questo periodo Chiaramente La Sta partendo Un progetto Che si chiama Epipass Che consiste In un'indagine Di demiovorgica Quindi una banca dati Una banca d'estangue Eccetera Legato alla valutagri Noi con l'amministrazione Abbiamo insistito Perché venisse speso Anche Alla valuta Asento In particolare Cittadini di Misticiscano Perché riteniamo che Misticiscano E' la coda Della valia Del petrolio Quindi abbiamo Fortemente insistito Perché venisse Anche Coinvolto Visticiscano Ecco questa Indagine epidemiologica Che consisterà In una raccolta Proprio di Analisi mediche Quindi analisi del sangue Ed altro Adesso io non so Nello specifico Quello che si farà Sarà seguita Da Istituto Superiore Di Sanità Dal CROP di Vino Nero Dal CNR di Dito E Organizzato Seguito Dall'ASME Dalla Fondazione Biomedica E una cosa Che sta facendo La Regione Basilicata Dovrebbe iniziare Il prossimo mese Noi abbiamo fornito Tutti i statistici Dei cittadini Di Misticiscano E l'area Che riteniamo essere Diciamo coinvolta Questo è un primo passo Il passo successivo Sarà Individuare Lo stesso tipo di azioni Non per la linea Del petrolio Ma per l'area Sin Quindi in quel caso Anche i lavoratori Di Bistici Scalo Della Varvasento Saranno Molitorati A livello Epidemiologico Quindi con Analisi Specifiche Del sangue E di altro Questo per informazione Insomma sta partendo Questa attività Noi abbiamo insistito tanto Perché l'idea Era solo Sulla Valdagri Invece siamo riusciti Ad ottenere Anche l'allargamento Ai cittadini Di Mistici Scalo Era giusto per informarsi Se posso rispondere Io questo Un sacco Ingegner Ma lì vi faccio Non c'è quello Ancora Io ho detto Noi qua siamo amministratori Quindi dobbiamo interloquire Con la regione La legge A me che c'è un conflitto Di interesse Con il PD Visto che E' un marciale Giallo Del PD Questo è il nostro A me non interessa Quello che è Il conflitto di interesse Noi portiamo avanti Portiamo avanti Una cosa Che è di tipo scientifico Poi Ci significa Farla Bancarati Con A politica Vogliamo una bancarati A politica Io Vi devo dire questo Poi Nel centro Di fondazioni biomediche Presente Un mezzo della politica Che ci ha dominato Per tanti anni In dubbio Ci rivisto Scusate Vi interrompo Semplicemente Perché la discussione Stava un po' Non volevo Non volevo Interrompere nessuno C'è il dottor Casalini Di Oxford Che è con noi Dato un pomeriggio E Ci sta facendo Veramente Un grande favore Eh Gli darei la parola Un intervento Anche breve E Poi passiamo magari Verso la conclusione Mi sentite? Sì Buonasera Che possono essere Eh Le malattie Ginecologiche Tumorali Non tumorali Legate all'inquinamento Ambientale Industriale Per E Come diceva In precedenza Don Parmiro Presutto Che stimo Eh Eh In maniera importante Eh 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 Le patologie Legate all'inquinamento Ambientale Industriale Eh 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 Di vista Sicuramente Da un punto di vista Ostenrico Eh Eh La Evidenza è più chiara Eh Malformazioni fetali Malformazioni Eh Leccate Eh All'imperiogenesi Quindi Eh Nella Che vengono in considerazione Il primo periodo della gravidanza Eh Sono state associate Eh Ad un inquinamento Industriale Ambientale Eh Non solo Ma anche a volte spontanei E Eh All'interruzione Voluntare Di gravidanza Questo perché Perché Nel momento dell'interruzione Eh Chiesi interruzione Di gravidanza Spesso è legata Ad una Malformazione Diagnosticata In epoca Precoce Quindi eh Si è vista una Eh Correlazione Appunto Tra il cinque inquinante Questa richiesta Eh Patologie penigne Cinecologiche Eh Comitometriosi Come la presenza Di eh Fibromatosi Unterina O Miomi Eh Sono stati riscontrati Essere in aumento In zone eh Fortemente inquinate Eh Eh Ma fondamentalmente Eh Dall'aspetto Per quanto riguarda L'aspetto ginecologico Direi che eh Eh Più che altro Eh Come diceva Argon Eh Risulta più che altro Eh L'aspetto legato Alla gravidanza Quello che mi Eh Mi eh Eh Spingere E' importante E' importante valutare Non solamente Eh Il tipo di agente inquinante Ma anche La tempistica Con la quale siete state contate Con questo agente inquinante E anche Eh La 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 connessione temporale Tra l'esposizione E eh L'insorgenza della gravidanza E' importante sottolineare Come sono state riscontrate Anche delle problematiche Di tipo Di fertilità In particolar modo In fertilità In fertilità di tipo maschile Eh Correlato a questo tipo di Eh Eh Inquinamento Industriale Tornando all'aspetto Eh Tumorale Eh Più a grandi A grandi linee I tumori che sono Ah Principalmente Eh Associati Alla Al petrolio Quindi Ah All'inquinamento Da petrolio Sono sicuramente tumori Legati Ah Eh All'aspetto Ormonale Quindi la tiroide Tumore Legati Tumori Come sarcomi Tumori della pelle Eh Dal punto di vista Ginecologico Tumori della vulva Tumori della vagina E Eh Patologie legate Alla A proliferazione Cellulare Eh Di globuli rossi Globuli bianchi In particolar modo E Di lufomi Questo è Rapplicato per dare Una sorta di Sparinatura su quali Possono essere le Malattie Andare a ricercare Generalmente Eh Gli studi vengono Precorsi sul tumore della mammella Perché è il tumore più frequente Sono stati riscontrati Anche degli aumenti Su quanto riguarda Il tumore della mammella Della prostata dell'uomo Eh E ovviamente Il Il tumore Eh Eh Al polmone Eh Ne risente In maniera primaria Questo era solo per dare Un'infrematura Eh Sicuramente Il messaggio da dare Quello di una sensibile La sensibilizzazione È importante Quindi la conoscenza È importante Ma anche Il riportare i sintomi I medici di base E raccoglierli In una maniera Eh Schematica E eh L'uniformità Dei dati Possono essere Eh Dei pubblici Poi lavorare Sempre più maggiore Insomma Non so se ci sono Delle domande Grazie 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 Allora Sono l'Avvocato Giulio Medi Guintisa Per conto Di tanti amici Qui presenti Amici coraggiosi Perché non si fanno Le battaglie ambientali Senza coraggio O Stando seduti In poltroni Abbiamo E stiamo portando davanti una battaglia contro lo smaltimento dei rifiuti coliferi che ha causato tantissimi tanti. La maggiore patologia causata da questo tipo di attività, da distrazioni colifere, non è di tipo tumorale, ma è di tipo neurologico, di idrogeno solforato, parkinson, alzheimer, eccetera, eccetera. Questo aspetto, secondo me, va approfondito. Avere un punto di smaltimento dei rifiuti coliferi e come avere un punto di esitazione del poliferico. E quindi la prima domanda, la domanda era questa, quella cioè di verificare questo aspetto, perché a Pisicci c'è un'altissima percentuale di malati che presentano queste patologie neurologiche. E quindi, più che con una frase di malati che sicuramente fanno approfonditi, io quello che suggerisco è di tenere in particolare attenzione alle malattie neurologiche. Però ho un altro input che volevo dare a voi che siete medici e che io sono molto felice di vedere impegnati per una valutazione di impatto sanitario fatto in modo scientifico, perché le cose fatte alla buona in questo settore non vanno bene. Ma vi volevo semplicitare ad un aspetto. Guardate, se uno mi dicesse o mi domandasse, mi dicesse, ma il problema ambientale dell'inquinamento è un problema di salute pubblica, io non risponderei sì, io risponderei anche. Il problema salute è l'epifenomeno dell'inquinamento ambientale. noi purtroppo in Basilicata ed eravamo una regione dove si viveva veramente bene a livello di salute, oggi siamo diventati forse, almeno in alcune zone, una regione molto inquinata. Ma l'inquinamento più grande è l'inquinamento istituzionale. Poi mi dici, hai voglia di staccarmi la testa il cielo al muro? Se le istituzioni non funzionano... Prego. Pefetto. Il concetto è che i dati come dice giustamente per valutare la salute pubblica e quindi i dati che noi dobbiamo raccogliere sono soltanto una parte, un aspetto del problema Perché la ricerca dei dati non serve assolutamente a niente se prima non si vedono quali sono i ponti di inquinamento, perché se no, parlare di ricerca epidemiologica senza sapere quali sono i ponti di inquinamento è come dire, io prendo un sacco di dati, me li metto lì e comincio a creare una causa effetto così alla buona. Sbagliare i dati sono un aspetto secondario, perché se noi non abbiamo le vere ponti di inquinamento, e soprattutto quali sono i materiali inquinanti, tutti i dati che mi possono dare loro non servono assolutamente a niente, quindi qualsiasi tipo di valutazione non serve a niente. Siamo perfettamente raccogliati. Essere consapevoli di questo già vuol dire aver fatto un enorme passo in avanti. Ma in coraggio... Scusa, prego. Quanto sta dicendo, è verissimo, e di fatti questo problema è stato affrontato nella regione precedente con i medici. Chiaramente questo è un incontro aperto al pubblico, non siamo potuti entrare troppo nel dettaglio di aspetti anche tecnici, però chiaramente questo aspetto è stato valutato e è da lì che si deve partire. Scusatemi se parlo troppo, perché poi dovrei essere soltanto una domanda, ma per me è un'occasione. E so di parlare anche a nome di tante persone che sono qui, quindi qui abbiamo degli eroi. Qui in mezzo, tra queste persone, abbiamo soggetti che hanno rischiato il posto di lavoro, hanno rischiato di essere allontanati da tutti, da tutti, hanno rischiato di morire in povertà. E qua c'è il secondo aspetto che io voglio mostrare. Guardate, quando parliamo di inquinamento e di lotta all'inquinamento, parliamo di lotti economiche fortissime. Stratificate in decine e in decine di anni, che agisca isolatamente qualche persona sarà anche bene, perché vuol dire che c'è qualche eroe, ma le battaglie difficilmente si vinguono. Bisogna creare una rete, ma di persone che siano coraggiose e che non lo facciano soltanto per presenzialismo o per farsi vedere, perché ce n'è tante, ci sono tantissime persone che parlano di ecologia, che parlano di salute, che parlano di tutela ambientale, soltanto per voglia di protagonismo o addirittura per acquisire consenso istituzionale o politico che serve a dare quella forza. e a causa. Capisco? Finisco subito il mio intervento, perché giustamente devono parlare pure gli altri. E da loro, il coraggio che si deve avere tutti è quello di agire a livello istituzionale. Se noi abbiamo un affatto, imbasificato come in tutte le altre regioni d'Italia, che non funziona bene, per non dire che funziona in modo infedetto, e allora la popolazione ha due possibilità. O si libera, e lo fa apertamente, oppure accetta l'attività, che a quel punto non ha più diritto di parlare. Per questo dicevo, l'apporto che devono dare i cittadini, che è un apporto globale, che inizi dalle istituzioni, che passi alla politica, all'economia, e che poi ha detto che è una medicina. Però è esattamente quello che sta succedendo. Io da pochi mesi che frequento la Basilicata, e già dalla prima volta che siamo venuti qui, ho visto che qualcosa sta muovendo, qualcosa è nato. La prima sera c'erano poche persone qui dentro, quando siamo venuti. Da quella sera è nato il movimento, tutti erano al basento, che sono questi ragazzi di pestici, che anche loro sono degli eroi, perché anche loro si sono messi insieme, hanno messo insieme tutto, e hanno creato loro questa serata. Grazie al loro impegno siamo riusciti a contattare un professore di Filadenzia, un professore di Oxford, un professore Tor Vergata, i medici si sono messi tutti insieme per arginare questo problema, appunto per affrontare questo problema. Quindi mi sembra che qualcosa stiamo vivendo, stiamo andando proprio da qui. di un professore di Alessio, Allora, sciso? Si, si stiamo perdendo. Alessio, però meglio che di un professore di Alessio, mi ha sentito la mamma, e anche da un professore, e anche da un professore di Alessio, la politica. Quasi. un mare ingegneri di quelli che insieme a di bello hanno pagato a che l'anno guardateci bene perché non è detto che non dureremo tanto fighiati esempio da noi ma noi non abbiamo paura di nessuno una domanda a professor Biotto io vengo da un'esperienza comunque rimane a voi che si attenta io ho un parente molto stretto che autonomamente un grande caso di chirurgo fu uscito perché non riesco a fargli fare il caso di chirurgo qui il lavoro è in parte Italia e l'ho comprato un lavoro in parte Italia una media di abbandoni così vengono chiamati molto bassa con una sola unità di cambio chirurgia a potenza ce ne sono tre e hanno una media di abbandoni per tre volte superiore cioè di molti loro richiamano abbandoni in molti come se lui stessi lì poi abbandona è tornato qui per fare una serie di operazioni di screening sul cuore nei paesi vicino alle aree dove si tira il petrolio brevemente vi dico questo che mi può servire sugli aspetti cardiovascolari è terribile mi ha raccontato cose terribili terribili screening a tappeto in alcuni paesi non c'è una persona che non è ammalata anche gravemente non lo sa a livello vascolare ma la cosa io mi collegavo anche all'intervento di difesa prima lui ha notato nei ragazzi che lavoravano in queste aree notavo che erano particolarmente come dire se ti sembravano sotto l'effetto della droga tant'è che abbastanza si è riuscito a prendere loro dei campioni di salto perché cercava dei marcatori di cocaina non li ha trovati probabilmente qualcosa che esce dalla terra già quando compra il petrolio perché per far uscire una scorsa di petrolio da 3.000 metri bisogna operare pressioni attorno attorno in decine ozzi di migliaia di angustiere quindi sale in qualche modo il petrolio banca troppo ovviamente nell'agra e comunque ma esce anche il gas sono tutti ammalati oltre che il cuore anche per rispetto a queste sostanze un'altra cosa ancora che volevo chiedere a voi e che volevo ricordare a voi a proposito dei suori non benigni non maligni le endometriosi io ho notato personalmente perché sono un amante di animali e cani o per amico a cui veterinari vi prego di raccogliere dati anche da loro il problema è le endometriosi degli animali i cani i cani gli animali specie quelli brati non quelli da allevamento cambiano loro per la strada vanno in giro dentro il naso dovunque le podoli c'è un rapporto molto stretto fra l'animale che vaga e la femmina naturalmente e la endometriosi vi prego anche se vi riesci di far collegare questo esempio i veterinari devono essere alertati anche loro perché la fonte di inquinamento ci sono anche veterinari che devono farci capire cosa sta succedendo ribadisco non soltanto prendete dati e basta perché se no si fa un'altra o no prendete contatto con questo caso di gruppo magari vi do il nome per prendere anche i dati poi se vi mettete dentro un database si riesce a capire anche come si muove si possono fare delle simulazioni delle nuvole come andrà l'inquinamento come andrà il cancro quale sarà la situazione qui fra l'inizio è molto semplice grazie 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 adesso di conseguire con le domande volevo chiedere a Don Palmira e a la voca con la mese se volevano fare un saluto finale e un'analisi magari della se mi consente solo 10 secondi per rendere anche utile di meno pratico questo in bordo questo non lo perseguiamo era soltanto perché sono fratelli e Raffa mi saluto perché magari vengono qualunque si cosa hai scontrato cosa hai scontrato in questa serata se aspetta che non si è sentito se puoi ripetere non si è scontrato non si è scontrato non si è scontrato come dire trascurare la circostanza del tutto fortuna che oggi esattamente oggi quindi il 17 marzo di molti anni fa mi trovavo in buono da Pavia perché oggi ricordo l'anniversario della morte di mio padre arriva esattamente oggi diversi anni fa al San Matteo di Pavia il mio intervento è come dire personale ma non per tutto l'ossattare il padre motiva di una forma di incanto di una forma tumurale che era strettamente connessa al suo lavoro lavorava all'interno del pedroclinico lavorava per l'Aesso e la sua esposizione prolungata negli anni purtroppo ha in generale questa patologia colpiva di una leucemia e di questo è morto prima che morisse abbiamo incardinato una procedura di tipo come dire rinforzionistico è stato riconosciuto dal guide la malattia professionale legata proprio all'esposizione che mio padre ha stupito e protratto negli anni al buzzele e al capogli alloratici con le sostanze che derivano da gli piatti che ancora insiste nel territorio insieme a tanti altri perché dico questo perché la giornata sicuramente è triste però mi piace sottolineare questa coincidenza del tutto fortuna che in quella stessa giornata diversi anni dopo stiamo parlando in senso assolutamente costruttivo e si evince da tutti gli interventi che sono sostituiti questo è come dire un grande messaggio di speranza per noi perché nel territorio personalmente come comitato ci siamo da diversi anni e ci scontriamo quotidianamente con quello che è verso l'impacto ovvero le forze come dire di potere i gradi multinazionali che vogliono convincerci che si è vero si muore ma se muori di un calco e non muori è perché puoi è perché non mangi bene perché si sta nel traffico l'anno scorso l'anno scorso il registro dei tumori ha si raccontato a 100% dei registri dei tumori ha proprio come dire verificato scientificamente quello che è sotto le occhie se prima in questa zona si moriva di cancro e principalmente l'unico di cancro era angolazione maschile prevalentemente impiegata nel settore metalmeccanico industriale per le chimiche e quant'altro oggi si assiste ad un incremento di patologie tumorali non più in soggetti che lavorano nell'antrae industriale l'esposizione settantennale del nostro territorio a tutto quello che insomma conoscete c'è nella nostra zona di grandissimo per lo chiedere per un suono ha purtroppo invaso permeato la patrice il territorio l'acqua l'aria il sottosuolo le palle e stiamo piangendo oggi i risultati di tutto questo è inutile pregarlo l'incremento tumorale è in crescita è in crescita e si può parlare di tutto si può parlare di sicuramente interventi come dire migliorativi da tutto di vista di agnostico si può parlare di prevenzione si può parlare di strutture ospedaliere che siano al fiore d'orpello in Italia non purtroppo nella zona in tutto che tipo però se non si parla di bonifica è quello che cerchiamo di dire in questi anni questo terminolo se non parliamo di bonifica se non parliamo di migliorare l'attualità quello che è inizialmente industriale è che non può sparire così non sparirà mai neanche vogliamo che sparisca e sia chiaro questo messaggio noi non vogliamo che tutti si resti in mezzo a una strada e che quella grella è una delle più importanti fondi di reddito così non si sa per quale motivo si resta no noi vogliamo semplicemente che le leggi si perdono rispettate in questo senso avrete letto l'anno scorso come la procura che si raggiunga il procuratore Giordano ha emesso nei confronti di due dei più grandi come dire coli quindi più poi le testo questi preventivi perché sulla scorta di quelle che erano le denunce e le come dire le pentelle che sono benvenute in procura della gente degli anni è riuscita a riscontrare proprio quello di cui noi ci lamentiamo ovvero che non sono rispettate le prescrizioni sono state dati 12 mesi a queste società per perché rispettino le prescrizioni cosa vuol dire vuol dire che nel caso specifico l'Aesso ha 25 cammini che non sono assolutamente come dire a regola d'arte quindi vanno vanno trattati in un certo modo vuol dire che le cisterne vuol dire che i grandi serbatoi devono essere ma non evoluti la cosa che volevo in questo poi vi saluto e vi ringrazio veramente per averci invitati la cosa che noi diciamo a Siracusa di buon pace nel senso che non riesce a digerire veramente e tutte le volte in cui io penso che quando scu'insediato il primo sedimento in quest'era degli anni 50 proprio l'Aesso che si mantiene un vecchio impianto dal Texas e lo rimonta in seconda mano da noi e da lì parte quello che in 70 anni è stato insediamento industriale ma già lì quando in America quando in America si scopriva la riscienza ambientale perché già da si pianuravano le vittime negli anni 50 già c'erano gli studi approfonditi su quello che era veramente il grosso colpo che sarebbe derivato da questo insediamento industriale ecco lì nasceva la coscienza ambientalista quindi rinasceva come dire il diritto dell'ambiente e qui invece iniziava la colonizzazione perché voglio la colonizzazione industriale che oggi è ancora per decenni ci farà piangere gli effetti di questa grande come dire del progresso grazie 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 anche Don Palmino vuole fare un saluto Don Palmino vuole fare un saluto o si io volevo concludere scusate dicendo un'altra cosa di un'altra cosa sicuramente sono tanti ma sono come una sorta di ex polo come si fa per lezioni ho notato che emergono alcune cose interessanti io ho notato il nome del prognome della persona che è seduta il tipo di cancro l'età l'attività e la guarda da questo ovviamente un terzo delle persone scritte in quella lista sono invece tutte per le nuove poli e questo va a dire che è un'altra poi ho fatto anche l'elenco per età la cosa che veramente mi ha sconvolto è stata prima di scoprire che più della metà di me di scritto in quella lista hanno meno di 67 anni perché dico 67 anni perché una legge che in varia è stata approvata è quella di calcolare la durata media della vita allora questo significa che quando abitate su quello non ve la verrà aggiatate per me allora io mi sto facendo un promotore di un esempio di legge di iniziativa popolare che faccia tempo imparato gli abitanti del reale e sin a coloro che sforbano lavori inamosi e usonanti perché questa gente ha diritto dopo aver lavorato una vita adotesse almeno qualche anno di pensione e adotesse i nipoti e la fine cosa che è grazie grazie ci sono le interventi proprie domande tra l'unvaliniero o in generale se no facciamo finire l'avvocato molto velocemente molto velocemente per fare subito spazio però io amo le grosse operative perché se ne stiamo subito una questione operativa allora Pistici Scavo è stata ammorbata per 5-6 anni dal fenomeno dei miasmi miasmi che era una faccenda insopportabile già si sapeva che erano l'effetto dell'idrogeno solforato ma hanno trattato l'idrogeno solforato come se fosse una questione non pericolosa che lo ha trattato si ha trattato così si parlava di idrogeno solforato non si sapeva ma nessuno si è allarmato in morale da dire fermi blocchiamo la causa di questi miasmi adesso io ho trovato degli studi veramente perfatti presso l'università della California dal professor Chu e dalla Dorsogna che ha fatto un po' più da tramite ecco prima primo input siccome è qualcosa che riguarda di Ficci che riguarda l'affetto della popolazione di quasi miglia abitanti io mi chiedo di approfondire a livello medico questo aspetto quindi quali sono perché noi ci siamo costituiti particidivi nel processo per 400 persone proprio per i danni che derivano dall'idrogeno solforato prima questione l'input è fate uno studio particolare aiutateci in questa battaglia che serviranno soltanto a noi ma a tutti coloro che si trovano in siti inquinati dentro del territorio il problema è riuscire adesso a fare un quadro di tutte le zone e fonti di inquinamento sennò la ricolta dati non serve a niente ribadisco l'età sarà molto difficile è anche costoso quindi dobbiamo cercare in qualche modo di fare questo lavoro perché ribadisco il concetto il problema di essenzialismo o di cose dico una cosa proprio io personalmente io me covi tanto non ci crede nessuno gratuitamente ok assolutamente e come lei Lucina che partireva bene dico per me ma ragazzi ma non puoi anche stendere anche a te va bene ok ci siamo tutti questo ci creda veramente ok e sono molto contento oggi sa perché perché io sono qui tre mesi fa e ho visto le più persone qui adesso vedere tutta questa gente per me mi riempie il cuore veramente voglio dire che forse non ho perso il tempo e sono e sono e basta però avete intervitti bene così sto tornando alla sera del 22 di settembre scorso quindi non è da padigiano c'erano 600 persone gente in piedi eccetera e la composizione era anche molto interessante perché c'era società civile c'erano associazioni c'erano anche rappresentanti pubblici eccetera adesso lì è stato in cui è avvenuto qualcosa di molto importante questo territorio ma credo anche per territori come Augusta e diciamo l'Italia inquinata cioè lì c'erano ci hanno messo i soldi ci hanno messo anche degli anni ci hanno messo le migliori fondazioni e quant'altro voi conoscete bene è il lavoro capitanato dal dottor Bianchi allora quindi lo strumento della BIS che io non ho sentito nominare ma sicuramente non l'avete letta studiata conosciuta eccetera vogliamo sapere se da un punto di vista metodologico dell'impostazione quindi anche della necessità di interproduzione ovviamente con tanta ricchezza scientifica anche accumulata non abbiamo nessun problema a riconoscere che è toccato veramente di livello scientifico anche metodologico molto alto nello stesso tempo in quella stessa serata ricordo perfettamente anche l'imbarazzo dell'assessore all'ambiente di Basilicata aveva già pronto uno strumento la fondazione biomedica faremo gli approfondimenti allora o in scienza o non lo è dopodiché allora se appunto si pensa non dovresti riprendere prego sempre quello che non c'è viva questo questo studio che è stato fatto nei due comuni vicini è stato fatto da eccelli di strutture specialistiche il CNR l'Università di Bari perché niente da recettare i dati così due parole sono che c'è un aumento di malattie cardiovascolari sia per quanto riguarda i ricoveri che per quanto riguarda le morti c'è un aumento sempre parlo della popolazione di vinciano soprattutto per quanto riguarda le morte dei tumori dello stomaco qual è il dato che viene subito fuori come sono stati fatti queste ricerche cioè sono stati diciamo individuanti delle persone hanno fatto delle analisi e hanno tirato le convulsioni ok va benissimo però quello che vogliamo fare noi è una sorta di storia nel tempo che significa un tumore non è che sorge uno viene a contatto con delle esalazioni tappa e arriva il tumore non è così perché molto spesso l'elemento cancerogeno determina la mutazione a livello della cellula del nostro organismo ma non si manifesta subito probabilmente l'organismo cercherà di riparare quell'alterazione genomica però la riparazione può non essere stata efficace per cui si può verificare il tumore a distanza di due o tre o quattro anni per cui lo studio se si fa nell'arco di un anno anche di due anni non ha la valenza scientifica per poterci dire che in quell'ambiente ci sono degli inquinanti non so se sono stato chiaro lo studio va fatto in proiezione noi vedremo di recuperare i dati di circa dieci anni fa e quindi a partire da dieci anni dobbiamo capire quanti sono le persone affette che sono state affette di tumore quante sono rimaste in vita quante sono morte e questo è lo studio che vi faccio ti faccio un altro esempio Pista Mattei pare che ci sono degli inquinanti là sotto allora a valenza maggiore a valenza maggiore quegli inquinanti sotto la Pista Mattei o i miasmi di cui si è parlato che cosa ha provocato quell'inquinamento che cosa provoca l'idrogelo sofforato l'epidemiologia è una materia molto molto particolare per dare dei dati è necessario andare nel medio di capire la conseguenzialità molto spesso alcuni dicono il tumore dipende dal petrolio ma può essere non vero perché il tumore può essere dovuto al fumo quante persone che fumano possono avere il tumore ma l'inquinamento non c'entra non so ecco questi dati per riuscire a capire ecco la necessità di fare un lavoro come si deve e questi signori qua con l'aiuto del professor Video che è un epidemiologo di tutto rispetto valuterà i dati che noi andremo a fare vedremo il professor ecco ancora il professor Video mi ci ha detto da quale anno vuole i dati non ce lo dirà ci saranno altri epidemiologi con la popolazione vi diremo man mano che cosa stiamo vedendo grazie un ultimo intervento e che vorrei fare un minuto circa perché posso? prego allora buonasera siccome la cosa è molto interessante davvero è importante e ci sono state anche come dire delle linee guida del dottor Roberto Silvestri che diceva dobbiamo verificare le fonti no? è una cosa normalissima e è la fase proprio il giovane amico come ti chiamo scusate Nicola diceva fuori diciamo a ogni contesto politico dalla valutazione io diciamo molto humilmente vi permetto di dare alcuni suggerimenti che secondo me sono alla base di qualsiasi partenza proprio la base primo il cronologico storico di tutti i processi che si riferiscono ai reali in materia ambientale dagli ultimi vent'anni hanno un unico comune denominatore la trasformazione del vero cioè trasformazione del codice cellulare dei rifiuti da pericolosi a non pericolosi della serie che ne uccide più la penna che la spada che con quelle trasformazioni stanno ammazzando migliaia di persone allora si deve partire da questo assunto giuridico proprio quello che ci prova la direzione nazionale di mafia per dire che le fonti di contaminazione quelle certe stiamo parlando dei rifiuti del prolifer qua si dice che dal settembre del 2013 al settembre del 2014 sono arrivati 300.000 tonnellate di rifiuti pericolosi da attività estrattiva e hanno trasformato il codice stiamo parlando solo di pisticci 857.000 tonnellate a costa Molina 2 stiamo parlando di Montemurro ora avendo questi dati faccio un piccolo passaggio come hanno scoperto le navi affondate nel mare perché le compagnie di assicurazione che pagavano sapevano il punto GPS esatto dove erano affondate quelle navi noi sappiamo dove sono arrivati questi veleni ma siccome la loro natura è stata trasformata in modo strumentale da mascalzoni pubblici cioè lo dobbiamo dire perché sono degli autentici assassini e criminali mascalzoni seguendo la pista che porta a Pisticci che porta a Guardia Verticara che porta a Montemurro che porta a San Nicola di Mefri che porta in tutte queste conti noi dobbiamo fare un lavoro che deve essere scevro da ogni qualsivoglia tentazione di carattere partitico politico il più lo deve essere questa è una cosa positivista è più autofinanziato dai cittadini non lo so qual è la fonda che si può trovare per farlo perché costa un sacco di soldi fare una roba del genere esatto ma eh lo so non so però purtroppo però purtroppo noi abbiamo davanti un problema che è talmente tanto grande che io mi sento veramente dal più profondo del cuore di ringraziare tutti gli organizzatori a partire dal parroco ma la prima cosa che noi dobbiamo fare è mettere la parola stop alla truffa sembra il gioco delle tre carte a piazza Garibald a Napoli quando devono fregare i turisti sempre falsi i dati sempre falsi ecco perché io non mi sento di legittimare niente che è il pubblico in questo momento perché prima sarebbe una casa dopo il che si può anche legittimare e quando ne facciamo arrastare qualcuno voi lo promuovono come quando la domanda che vorrei dire il progetto dottor ricordate questo ma appena uscite al cancere vanno a restare da noi li promuovono picco fammi finire un po' un seguito allora ad Umberto io la domanda che volevo fare siccome lui ha detto diverse volte no dobbiamo sapere le fondi di contaminazione allora è giusto che si deve sapere le fondi di contaminazione io penso che non abbiamo più neppure il bisogno della valutazione di impatto sanitario ho quasi parlato di sorveglianza sanitaria sul territorio sorveglianza sanitaria e c'era qualcuna che diceva che bisognava paragonare le persone di una certità a quelli che hanno lavorato sui lavori usurabili io dico che noi dovremmo sul territorio paragonare i cittadini a quelle persone che lavorano nelle aziende ad alto impatto ambientale perché la sorveglianza sanitaria è la tratta a tutti questo deve essere il progetto un attimo di tutto ci hai parlato di tutto ci hai parlato pure questa sera ma dell'inguinavicco alimentare che è alla base di tutto cioè è vero che si parla di aria di acqua di tutto è differente però diciamo da tenere un pochettino sotto non troppo oppure questo qua perché se sul più se sul più quello stava facendo continuano quando noi parliamo quando lo Stato dà contributi al cittadino per le cauta per le cautaie a condensazione e loro non fanno la condensazione di questi flughi di questi vapori di queste polvere perché questo fa? cosa c'è? ma già dobbiamo fare una parola una parola gigantesca se lo facciamo se lo mettiamo anche qua è possibile dopo vi grazie a tutti ragazzi se qualcun altro che vuole intervenire allora grazie per avermi invitato al tuo comitato di cora per aprire una discussione sui pesticidi importante perché purtroppo questa è una guerra della vita io la chiamo la guerra della vita perché poi alla fine contiamo i morti purtroppo ma contiamo i morti per malattia e con dei costi e i costi ricadono sulla collettività per cui nella ricerca della vita noi dobbiamo creare quelle attività sostenibili per mantenere la vita senza farci del male tra noi a Augusta c'è un rapporto di storia di continuità che abbiamo con il nostro mare perché abbiamo le stesse correnti che dal Golfo di Taranto arrivano da Augusta girano dalla Grecia e tornano da noi e abbiamo la Magna Grecia che ha portato la vita e la sostenibilità perché questo è un territorio di acqua e di risorse quelle stesse risorse sono validi anche dopo tanti anni per creare attività progresso sviluppo senza farci del male la speculazione si può anche fermare si può creare anche altre strade nella normativa abbiamo bisogno di una normativa a tutti i livelli negli inquinanti nella tutela della società perché la battaglia che adesso affrontate voi è più difficile di quella che ha io quando ho detto fermiamo le tribunazioni petrolite ma di me ci sono i problemi che non sono applicate è un parco sì però il problema nella guerra nella guerra nella guerra della vita c'è bisogna bisogna impegnarsi per cui quando diciamo no partendo da Pisticci altre attività inquinanti sul territorio non le dovete accettare grazie prego no davanti no davanti comune e non solo forse vorrei collegarmi con la richiesta di collaborazione della protagrata davanti dei cattari vi vedo che per semplificare e facilitare la richiesta sarebbe opportuno che sempre che siano pochi che ci appare no se 16 si parlavano 12 15 15 15 più 2 che i medici di famiglia si riunissero e in collaborazione con degli specialisti nelle varie malattie oncologiche neurologiche quelle che sono eventualmente dipendenti da queste cause da questi inquinamenti si riuniscano e fanno un modulo un modello condivendo un questionario da riscrivere poi che dici di famiglia chiedo scusa l'abbiamo fatto due ore fa quello non l'abbiamo detto però in realtà è proprio questo che è stato fatto nella riunione di come no non l'abbè 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 messire il modello basso su cui dobbiamo registrare i dati ci verrà proposto dal professor Messimero di Roma e lo dobbiamo valutare noi per dare degli altri dati su cui lavorare perché noi conosciamo il territorio questa valutazione è giusta quindi è giusto quello che lei ha detto è proprio la linea che stiamo seguendo grazie prima qualcuno parlava di eroi io mi sono permesso di dire che anche i ragazzi che hanno organizzato questa serata sono degli eroi perché che la famosa che ci sono persone che ci sono fatti o che ci siamo sono riusciti a fare intervenire specialisti da tutti i parchi del mondo che ringraziamo il professor Giornano oggi è intervenuto da Miami il professor Messimero è intervenuto da Roma il professor Casarino è intervenuto da Oxford i medici di base sono riusciti sotto possiamo dire sotto l'impulso di famiglia sono intervenuti anche sotto l'impulso di questi ragazzi da Augusto sono intervenuti Don Palmiro l'avvocato Danello il loro gruppo che salutiamo ancora quindi direi che è una serata da cui è nata una coscienza e che possiamo proseguire con la consapevolezza che siamo sulla strada giusta la strada sarà ancora lunga però insieme ce la faremo prima il dottore chiedeva se torneremo e lo conferma tra adesso noi torneremo per fare altre riunioni molto volentieri anche perché questi ci siamo sempre trovati bene quindi torneremo con grande piacere e vi ringrazio per questa serata prima di lasciarvi andare cedo la parola Don Michele che ringrazio per l'opportunità e gli chiedo di fare un saluto finale e ancora una volta un ringraziamento vorrei anche salutare e ringraziare le 1900 persone che in queste due ore e 15 e 43 secondi hanno visualizzato il nostro il nostro il nostro questo significa che l'argomento è di grande interesse allora concludendo quello che mi riguarda dal mio dal mio punto di vista che cosa direi allora primo è necessario ecco che come già stanno facendo si sviluppi un protocollo di ricerca scientificamente ineccepibile che tenga conto di tutto ciò che è necessario anche per avviare eventualmente battaglie legali noi stiamo sfidando a poteri molto forti credo che non è un mistero insomma ecco basta guardare i dati basta ricercare per capire che in Italia necomafia è nata quando è stato istituito il ministero dell'ambiente e questo basta per capire tutto in questi giorni noi vediamo quello che accade in Slovenia e vediamo che c'è un un governo in crisi per infiltrazioni mafiose per infiltrazioni dell'andrangheta e questo ci basta per fare tante considerazioni ognuno ha un cervello ecco non ha bisogno che i temi gli sviluppino gli altri un cervello è un'intelligenza per intagare per ricercare per capire e allora ripeto è necessario ecco che sia sviluppato un protocollo scientifico di ricerca inicepibile tanto per la raccolta dei dati quanto per la conoscenza dei problemi è necessario anche determinare le aree di ricerca le aree di ricerca e anche determinare anche avere chiare le finalità da proseguire perché ecco prima di di muoverci prima di muoversi a 360 gradi forse ebbene cominciare a muoversi a 45 forse poi a 90 e poi andando avanti cerchiamo di raggiungere gli obiettivi sensibili più importanti più evidenti e più certi questo è uno degli incontri non è l'ultimo nel penultimo ma è uno dei tanti incontri di aggiornamento perché dobbiamo sempre cercare di essere in relazione e sensibilizzare il più possibile in questo campo oggi dieci medici nel nostro territorio e gli altri alcuni gli altri erano assenti non per negligenza ma per ragioni qualcuno di salute qualcuno in vendita di altro genere dieci medici si sono interrogati e hanno messo in moto la loro coscienza che noi già conosciamo essere molto sensibili nei confronti della sofferenza dell'uomo e ovviamente noi dobbiamo camminare con le nostre gambe e il nostro lavoro non lo devono fare altri lo dobbiamo fare noi c'è un lavoro che faranno le istituzioni un lavoro che faranno gli organi costituiti dai vari governi a vari livelli ma noi dobbiamo camminare con le nostre gambe e non dobbiamo senza essere diffidenti però non dobbiamo abdicare in maniera così un po' ingenua abitualmente quando gli organi di potere forte che riescono a governare e arrivare ovunque gli organi di potere forte vogliono depistare o mettere un coperchio fanno una cosa molto semplice costituiscono le loro iniziative perché ecco l'oggetto di ricerca magari venga sottratto allora dobbiamo noi camminare con le nostre gambe con grande fiducia siamo contenti anche io che si è detto l'assessore stasera che ha detto che il comune e l'amministrazione si è resa promotrice di una ricerca chiedendo e ottenendo che quello che si fa nella Val d'Acri venga fatto anche in Val Basento e questo è molto bello molto interessante e siamo molto contenti ecco di questa comunicazione ecco ma questo è un lavoro che è parallelo a quello che noi dovremmo portare avanti dovremmo portare al continente con il nostro percorso non è sostitutivo e non è alternativo ecco lavoriamo tutti per la stessa causa e allora ognuno nel proprio settore deve mettere in campo tutto quello che può e tutto quello che vale nessuno di noi è un picco dell'altro chi di noi ha interesse a distruggere la casa dei suoi figli chi di noi ha interesse a fare questo e chi di noi può andare al vento la sera con un grande pezzo sulla coscienza la mia disonestà ha fatto piangere un uomo ecco questa gente non manca ecco ma sicuramente non è tra noi e quindi dobbiamo lavorare tutti con con gli stessi con gli stessi soggettivi in modo alternativo non sostitutivo ecco e non in campo ecco poi chi parlava della pista mattegli il dottore Ferrara vedete io l'ho detto tante volte e continuo a dirlo allora se voi volete capire quello che è accaduto a Pisticci non dovete fare grandi sforzi voi dovete andare al catastro storico dovete andare a prendere l'impiante del catastro storico della valle del Pasento prima degli anni 50 dovete andare a vedere i fossi che c'erano dovete andare a vedere tutti gli scoli d'acqua tutto quello che c'era e dovete vedere come oggi e dovete andare a scavare lì dovete andare a scavare lì non ci vuole molto non ci vuole molto e se cominciate a chiedere a qualche anziano che ha lavorato da quelle parti e a qualche parente superstita vi racconta tutto quello che hanno portato vi racconta tutto quello che hanno portato e quello che stiamo portando quello che lo porteranno a mangiare noi faremo la nostra parte noi artisti ci siamo un po' con un po' particolare se cominciano a toccarci troppo voi sono guai come sempre nella sala comunale quando si discuteva con il consiglio provinciale per la centrale chi c'era di voi vi ricordate? ve lo ricordate? è una parola di un po' te quindi noi poi insomma collegioniamo ma sappiamo anche ragionare in modo forte quindi adesso possiamo concludere per anno per quanto riguarda il nostro incontro il ringraziamento più vero insomma per tutto quello che avete fatto e buon lavoro ecco perché abbiamo molto da fare grazie 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 grazie